Genoa quotidie numero 38, un saluto a tutte le amiche e gli amici all'ascolto, dunque il Genoa ha ripreso la preparazione quest'oggi a Villa Rostan in vista della partita di sabato contro il Frosinone, ricordiamo si giocherà in ciocciaria con inizio alle ore 16 e 15, la partita è stata giustamente spostata per dare maggior risalto a quello che in tutto e per tutto rappresenta il confronto tra le due migliori formazioni del torneo cadetto. Questa mattina, poi grande accoglienza da parte di tutti i dipendenti del Genoa alla squadra, c'è stata una mini festa con foto di rito, giusto per sottolineare una volta di più che il clima a Villa Rostan è davvero costruttivo e insomma si stanno gettando le basi per aprire un ciclo in tutto e per tutto e poi per quanto riguarda il giudice sportivo l'unico provvedimento che riguarda il Genoa è Sabelli che entra in diffida e dunque al prossimo cartellino giallo salterà una partita, è una notizia che può essere inserita tranquillamente nella rubrica del chi se ne importa, visto che ormai è finito il campionato. Intanto continuo a salutare tutti i miei amici all'ascolto, grazie per la grande audience della puntata di ieri, abbiamo battuto praticamente tutti i record da quando esiste questa trasmissione, naturalmente visto che ci piace anche dare molto spazio alle immagini, anche stamattina abbiamo pubblicato un video riguardante la coreografia splendida della gradinata nord prima di Genoa Ascoli, naturalmente abbiamo ancora tanto materiale che vi snoccioleremo nel corso dei prossimi giorni e poi naturalmente visto che il presente è al miele, non ci sono grandi novità riguardo al presente se non che la squadra sta intensificando la preparazione in vista del big match di sabato, intanto saluto gli amici di Frosinone Calcio 24H, saluto anche Luca Barone, altro fedelissimo della nostra trasmissione, come dicevo è il momento di iniziare a parlare del mercato, notizia diciamo tra le più ghiotte riguarda Alberto Gilardino, che insomma dovrebbe essere l'allenatore del futuro per quanto riguarda il Genoa, è prestissimo ancora per parlarne, nel senso che bisognerà aspettare ancora qualche giorno prima che le parti si mettano al tavolo, le sensazioni comunque sono senz'altro positive, si parla di un contratto almeno biennale per il tecnico biellese, giusto per ripartire con lui doverosamente sullo slancio dei grandissimi numeri presentati da Gilardino, e naturalmente un biennale rappresenta il minimo per cominciare ad aprire un mini ciclo, Frosinone Calcio mi chiede se Coda giocherà sabato, è un po' presto caro amico di Frosinone per capire chi giocherà e invece chi non sarà della partita, diciamo che il Genoa comunque ha dichiarato che arriva a Frosinone con l'intento di vincere, di giocarsela fino in fondo per conquistare il primo posto, staremo a vedere, penso che comunque verrà dato spazio a chi è più in forma e magari anche a qualche giovane della primavera che Alberto Gilardino conosce molto bene. Per quanto riguarda poi Martinez segnaliamo che nelle prossime ore la società eserciterà il riscatto del portiere dalla Lipsia versando nelle casse del club tedesco 1,8 milioni. L'amico di Genoa Club Toronto mi chiede se mi aspetto turnover, ma più che turnover mi aspetto magari un due o tre cambi per magari dare spazio a chi ha giocato fino a questo momento di meno, insomma il Genoa ha una panchina almeno fino al sedicesimo, al diciassettesimo uomo di grandissima qualità e dunque mi aspetto senz'altro un minimo di rotazione, insomma non dimentichiamo che qui c'è gente che sta tirando la carretta praticamente da mesi, mi aspetto magari qualche novità soprattutto per quanto riguarda il centrocampo, caro amico di Toronto, comunque sarò più preciso magari nelle prossime puntate di Genoa quotidie e poi il bailam dei nomi, dei nomi di mercato, siamo soltanto a maggio ma insomma questo tormentone del mercato ci accompagnerà fino a fine agosto. Io vi prometto che farò da calamita nel senso che vi girerò i nomi che riuscirò a raccogliere a fianco, però insomma siccome ci sono tanti sedicenti giornalisti in giro ci tengo magari anche a darvi la mia opinione personale e dunque a ogni nome che sarà accostato alla Genoa io darò la mia personale percentuale delle possibilità che possa veramente approdare al grifone, altrimenti insomma nel giro di due settimane il Genoa dovrebbe avere almeno 60-70 giocatori in rosa. Mi sfugge una domanda, Grifoni di Novi, in questi giorni probabile contratto biennale con Gilardino? Sì, posso confermare, ci sarà a breve un incontro con Alberto probabilmente prima della fine del campionato che per il Genoa significa venerdì 19 di maggio, visto che poi ci sarà anche il rompete e le righe perché poi la squadra andrà giustamente e meritatamente in vacanza. Dicevamo, per quanto riguarda il mercato, l'ultimo nome è quello di Zan Vipotnik, si tratta di un attaccante classe 2002, capocannoniere del campionato sloveno, attualmente in forza al Maribor con 20 gol, un nome pare parecchio interessante visto che Vipotnik è inseguito anche dalla Dinamo Zagabria e seguito anche dall'Udinese e dall'Atalanta. Si è parlato poi di un interessamento del Genoa per Tames, centrocampista molto bravo del Verona, allora per quanto riguarda le mie percentuali Vipotnik ve lo posso dare al 20% o addirittura magari al 70% perché poi il Genoa potrebbe acquistarlo e cederlo in prestito magari a qualche altra società, questa potrebbe essere un'operazione di prospettiva, Tames potrebbe arrivare al 40%, c'è chi poi ipotizza anche un ritorno in rosso-blu di Piontek attualmente in forza alla Salernitana, questo ve lo do al 10% perché insomma non mi sembra che sia una pista percorribile, come non mi sembra una pista percorribile quella di Belotti che ve lo do al 5%, insomma faccio questa professione ormai da qualche decennio e quindi sappiamo tutti come funzionano questi giochini, a volte i nomi sono dati in pasto ai giornali, non tanto dai giornalisti quanto dai procuratori che insomma tirano l'acqua al loro mulino per cercare di creare interesse verso i loro tesserati, questo capita molto spesso, magari capiterà naturalmente anche nelle prossime settimane. Altri nomi interessanti accostati al Genoa, ce n'è uno che veramente mi fa impazzire, diciamo a livello molto ironico, è quello del Papu Gomez attualmente al Siviglia, Gomez che ha un contratto con la squadra spagnola fino al 2024, Gomez alla Genoa, ve lo do personalmente oggi all'1%, e poi un nome da seguire piuttosto con interesse è quello di Zanoli del Napoli, attualmente in prestito alla Sampdoria. Direi che per quanto riguarda i nomi di oggi è tutto, naturalmente prendeteli con tutti i benefici di inventario con le pinze, naturalmente ci sarà tempo e modo per cercare di approfondire, come avete notato si tratta di nomi totalmente di attaccanti o di centrocampisti offensivi, questo significa che insomma il vento dice che il Genoa per quanto riguarda la difesa ripartirà dall'ossatura uscente, ci sarà qualche movimento a centrocampo, mentre per quanto riguarda l'attacco probabile che ci sia, non dico una rivoluzione, ma insomma senz'altro cambiamenti sostanziali. Concludo questa puntata di Genoa Cotidie numero 38, occupandomi quest'oggi dei contratti dei centrocampisti rosso-blu, ieri abbiamo fatto una carrellata su portieri e difensori, domani approfondiremo il discorso riguardanti gli attaccanti e i centrocampisti offensivi. Per quanto riguarda i centrocampisti, Silvan Efti ha un contratto con il Genoa fino al 2025, per lui una stagione molto altanenante, scandita purtroppo da questa maledetta pubalgia che lo ha tenuto spesso fuori gioco quando è stato impiegato, francamente lo dobbiamo dire, Efti non è sembrato il giocatore ottimo che abbiamo ammirato sulla coda dello scorso campionato e dunque ci saranno delle valutazioni da fare innanzitutto sulle condizioni di salute del centrocampista che ovviamente non si discute a livello di valore tecnico, certo è che per giocare in Serie A bisogna essere al top e speriamo che Efti lo sia nel caso in cui non lo fosse. Vedremo cosa deciderà la società. Contratto fino al 2025 anche per Stefano Sabelli, il gladiatore di questo Genoa, il sangue della corsia di sinistra, il jolly della rosa del grifone, Sabelli che nonostante la tonnellata di critiche che ha sempre e comunque ricevuto, ricordo agli smemorati che sabato contro Lascoli ha festeggiato la sua personalissima terza promozione in carriera dopo quelle conquistate con la maglia del Brescia e dell'Empoli. Continuo a salutare intanto gli amici che si stanno unendo alla diretta Instagram, Sabelli in Serie A con il grifone, sono questioni che verranno naturalmente girate a Gilardino. sul campo Stefano meriterebbe senz'altro la conferma, ovvio che non possiamo poi alla fine dare per scontate tutte le conferme perché insomma ci dovranno essere senz'altro delle novità sostanziali perché un conto è puntare a un campionato di vertice in Serie B, l'altro è quello di puntare a un campionato quantomeno da protagonisti in Serie A. mi chiede l'amico di Toronto se posso commentare chi potrebbe essere in uscita e diciamo che si sta lavorando Efti, la conferma ve la posso dare al 40%, Sabelli la conferma ve la posso dare al 55%, naturalmente è come un po' la situazione in borsa, ogni giorno può cambiare, certo è che non bisogna avere fretta perché insomma sappiamo che ci sarà magari qualche botto alla coda all'inizio del mercato, poi naturalmente bisognerà aspettare la fine del campionato di Serie B, la fine del campionato di Serie A perché poi i giochi si apriranno soprattutto nella stagione più calda. Continuo la carrellata dei centrocampisti della Genoa per segnalarvi il contratto fino al 2025 di Abdoulaye Touret, giocatore impiegato praticamente mai prima da Blessing e poi da Gilardino, peccato perché Touret è un giocatore senz'altro di livello, lo ricordiamo nel campionato francese come capitano del Nantes, un giocatore che prima con il tecnico tedesco e poi con Gilardino non ha mai trovato spazio, penso che le possibilità di conferme alla Grifone siano nulle, in bocca al lupo a Touret che ha bisogno soprattutto di giocare. Proseguiamo poi con uno degli eroi del Genoa promosso in Serie A, ossia Milan Badel, l'uomo che l'anno scorso con il suo gol al Cagliari tenne in vita la speranza della Grifone fino praticamente alla fine e poi sabato il destino lo ha premiato consegnandogli il pallone che poi Milan ha realizzato e questo diventa il gol della promozione del Genoa nel massimo torneo. Badel è in scadenza, ha allontanato sulle ali dell'entusiasmo la possibilità di ritirarsi, se gli piacerebbe giocare ancora un anno, il ragazzo sta bene, ha fornito ottime prestazioni, è un giocatore di grande carisma, di grande esperienza, a mio modo di vedere può essere senz'altro un giocatore molto valido anche nel Genoa in Serie A, dicevamo è in scadenza, la società sembra orientata a sedersi al tavolo per discutere il rinnovo del contratto di Badel, un giocatore a cui magari vista l'età non possiamo chiedere quantità ma senz'altro qualità. Badel secondo me potrebbe essere una colonna per quanto riguarda il prossimo Grifone. E poi altro punto interrogativo riguarda Stefan Ilsancher, per lui un contratto fino al 2024, un Ilsancher che ha trovato poco spazio sia con Blessing che con Gilardino, qualche volta è stato costretto a fermarsi ai box causa acciacchi, non è mai riuscito a lasciare un'impronta, dobbiamo riconoscergli comunque grande serietà e grande professionalità, si è sempre messo a disposizione del gruppo e dell'allenatore di turno accettando di giocare in qualsiasi ruolo e qualche buona cosa. Senz'altro ha combinato il centrocampista che ha una vastissima esperienza nel torneo della Bundesliga, francamente mi sembra arrivato alla capolinea per quanto riguarda la sua esperienza al Grifone. Proseguiamo con Morten Frendrup, penso che il centrocampo del Genoa possa ripartire, soprattutto da questo ottimo ragazzo, ottimo sotto tutti i punti di vista. Sporz aveva visto lungo i 7-7 pure, blindandolo con un contratto addirittura fino al 2026. Stiamo parlando della possibile conferma di Badel, di Strotman, di Sturaro, senatori che senz'altro potranno dire la loro, almeno per quanto riguarda il prossimo campionato. Frendrup può diventare veramente un giocatore di lunghissima prospettiva, può veramente fare quel salto di qualità che può permettergli di diventare una colonna portante del Grifone, almeno per i prossimi tre anni Morten senz'altro ha qualità, carisma, esperienza e pure gamba per diventare un ottimo giocatore nel massimo torneo italiano. E poi due giocatori in scadenza, Stefano Sturaro e Filippo Jagiello. Jagiello qualche giorno fa ha dichiarato a un sito polacco che la trattativa per il rinnovo con il Genoa è avviatissima, si parla di un contratto fino al 2025 e dunque il centrocampista offensivo ha ottime possibilità di continuare a vestire la maglia del Grifone, giustamente, perché insomma è un giocatore che almeno per spezzoni di partita può senz'altro essere molto utile alla causa, come può essere molto utile alla causa Stefano Sturaro, capitano in pectore di questo Genoa, uno Sturaro che si è messo totalmente a disposizione della maglia, che rappresenta poi in pratica la sua seconda, se non prima, pelle. Addirittura Sturaro è in scadenza, ma insomma anche in questo caso ci sono ottime possibilità che possa essere rinnovato e prolungato il suo contratto. Stesso discorso vale per Kevin Strotman, ricordiamo la situazione contrattuale del giocatore che è in prestito al Genoa dal Marsiglia, però il contratto con la società francese sta per scadere, scadrà a giugno e dunque anche in questo caso ci sono le possibilità per far firmare a Strotman un contratto annuale, Strotman la cui esperienza, discorso di Badel, può essere preziosissima soprattutto per il campionato di Serie A. Da ultimo vi segnalo Luca Lipani, classe 2005, un grifoncino della cantera rosso-blu, per lui un contratto fino al 2024, si tratta di uno dei prospetti migliori che stanno uscendo dal settore giovanile del Genoa, un giocatore senz'altro da tenere particolarmente in considerazione, per lui la soluzione più probabile è quello in prestito in una squadra della prossima Serie B. Possiamo chiudere qui questo appuntamento con Genoa Cotidie numero 38, naturalmente se ti è piaciuto questo spazio puoi lasciare il pollicione e poi naturalmente giratemi poi tutte le vostre questioni, perché insomma di argomenti da dibattere ce n'è sempre e comunque. Grazie per l'attenzione e naturalmente Genoa Cotidie torna domani puntuale con le notizie del giorno. Vi auguro un buon proseguimento di serata e naturalmente stasera buttate un occhio a Real City, perché insomma merita senz'altro. Ciao, a domani.